ci va facciamo vedere la magica manina che è successo? sei contento ma muovendolo? perché? non è galare non è galare com'è? non è galare ma non è galare non è galare ma non è galare ma non è galare non è galare troppo forte questo complimenti sabato prossimo ti devo vendere un nuovo support magician troppo forte vuoi aver mangiato e spendo soldi come finiamo? sorpresa lo devo vendere a tutti i pendoli che sono qua no è vecchio ma è di considerato capitano ci sono 10 euro no 1 euro e ho detto direi vandare mi riesci fare una volta? va bene va bene hai fatto cacarino? si? fatti di pescare adesso che faremo? no, per pescare, per pescare esibite, scende, 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 scende non è affetto rapido, perché non gli ho tutti gli affetti rapidi? no, non sono così sbraccati no, ma tu non lo sai che è un pozzettino? no, non è affetto no, non è affetto che fai? che fai? che fai? che fai? vado 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 Sì. Questa è la condizione, troppo. Stavo con un'armada. Ragazzi, ha dato una bellissima qualia. Oh, bellissima qualia. Ah, dovevo puntare i Kikai Tiago? Eh, chi so io. Ma hai stato la sua casa? La tua porta. Vai. La tua porta. La tua porta. Troppo forte stanno. Dove si sceglie tu? Beh, a caldo. Non serve da niente. Prendi. 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 Ma è troppo forte. Prendi. 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 la devo attivare forse la spaccata è buona io sto morendo solo dopo che ha piatto la piazza la piazza la piazza la piazza la piazza Grazie a tutti